Il principe Harry e Meghan Markle hanno già deciso, ecco cosa accadrà durante il periodo di Natale per i Sussex. Area di crisi in casa Sussex, dove il principe Harry e Meghan Markle sembrerebbero essere estremamente provati da uno periodo matrimoniale difficile. Nelle ultime settimane, infatti, la duchessa è stata più volte notata in solitaria agli eventi mondani oltreoceano, impegnata esclusivamente a perseguire i suoi obiettivi imprenditoriali. Dopo il lancio del brand di Lifestyle American Riviera Orchard, Meghan Markle sembrerebbe essere focalizzata a coronare i suoi sogni di gloria e successo sul mercato internazionale. Al contrario, il principe Harry è attualmente impegnato nella promozione di opere benefiche nel mondo a cura della sua fondazione Archevel. La stampa inglese ha più volte sottolineato la crescente lontananza tra i due Sussex, sempre meno uniti negli ultimi anni. I loro progetti di vita sembrerebbero aver preso strade differenti e mete opposte, obbligano i due coniugi a separarsi per lunghi periodi. Il Natale della discordia, il principe Harry ha già scelto.Dopo aver trascorso il suo quarantesimo compleanno lontano dalla famiglia, il principe Harry sembrerebbe aver mostrato l'esigenza di ricongiungersi ai membri della Royal Family in occasione del periodo natalizio. A renderlo noto è la stampa inglese, la quale ha recentemente parlato della volontà di Charles Spencer, fratello di Lady Diana, di invitare il nipote Harry e la moglie Meghan presso la propria tenuta di Walter Pauze in occasione del Natale. La risposta dei Sussex non è ancora del tutto chiara. Secondo alcune voci vicino alla coppia, Meghan Markle non sarebbe incline a tornare in Inghilterra. L'atteggiamento della duchessa starebbe aggravando la situazione di crisi all'interno della coppia. «Per il momento, inoltre, l'invito ricevuto dallo zio Spencer non prevederebbe un incontro ulteriore con i membri della famiglia reale». «Non c'è ancora stato un invito esteso a Sandringham, ma ciò non significa che non ce ne sarà un imminente», ha aggiunto l'insider. «Se il clima di tensione tra Harry e il monaca sembrerebbe essere prossima ad una risoluzione, la via della riconciliazione con l'erede al trono William appare ancora molto lontana». «Le prossime ore risulteranno essere decisive per un riscontro definitivo sul viaggio natalizio dei Sussex a Londra, il quale potrebbe intaccare definitivamente la relazione tra la coppia». «Le prossime ore risulteranno essere prossima ad una risoluzione,